Pooch Cover in cordura milleden molto resistente, cerniere lampo YKK, abbiamo una cerniera lampo frontale per accedere a una tasca integrale, un'altra taschina sopra a rete e all'interno troviamo del tessuto antiurto, antigraffio, per inserire materiale che va protetto, tipo occhialoni e similari, due taschine laterali in rete traspirante, molto solido, cuciture ben fatte. Poi vediamo il retro, nel retro troviamo classici attacchi molle senza bottoni, senza ventima a incastro e la possibilità di sistemarlo anche sul cinturone orizzontalmente anziché verticalmente, perchè è dotato di doppio passante. Grazie. 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 Grazie.